vittoria arrivata contro l'albania 2 a 0 peccato non abbiamo fatto più di un gol più che altro per la classifica perché la spagna è sempre lì ovviamente l'israele quattro papini afficcato quindi italia che rimane incollata alla spagna fortunatamente con l'albania non è una partita facile anche se comunque sono stati superiori sicuramente l'unica cosa è che peccato siamo fatto un po più di un gol peccato per la differenza reti l'importante è vincere ovviamente e avere differenza reti quindi 2 a 0 che comunque ci sta tre punti che abbiamo ottenuto l'importante era quello rigore che secondo me molto generoso belotti è un po fatto il tuffetto però vabbè finché va bene a noi facciamo finire di niente ma con una prestazione comunque buona adesso la prossima mi sembra sia a giugno c'è la mi chiedevo la volanda mi chiedevo le con uruguay mi sembra prossima contro l'inxenstein se non sbaglio quindi lì dobbiamo fare almeno 4 5 gol se non sei perché differenza reti importante per arrivare primi perché se arrivano secondi i play off sono tosti e poi settembre big match con la spagna in trasferta che è difficile difficilissima difficilissima e comunque ditemi voi se questa nazionale vi è piaciuta la partita è stata abbastanza tranquilla alla fine peccato quei classici tifosi del cazzo di questi fumo oggi non so come cazzo fanno entrare in campo entrare allo stadio con queste robe non sono di controlla ma non lo so comunque niente non c'è niente altro prossima con l'olanda amichevole vediamo di vincerla per il ranking fifa portazzurri ci vediamo la prossima probabilmente con il commento con l'olanda ho il pronostico per la partita successiva con la sampdoria che sarò allo stadio e speriamo in bene speriamo in bene forza azzurri ancora grande immobile grande velotti anche se non ha segnato c'è un po' gradura in esistente e basta e basta così ciao ragazzi buona domenica